Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Sui canali social di Per Sempre News l'informazione sulla palla ovale. E' partito 6 nazioni, lo sappiamo, la settimana scorsa tra sabato e domenica è andato in scena il terzo turno sia per quanto riguarda l'Under 20 guidata da coach Massimo Brunello che per quanto riguarda gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada la sfida con la Francia. Come sempre ne parliamo con il nostro amico, il reggbista, il mediano di mischia, il nazionale, il coach del Benevento Rugby, Annibale Fusco, il nostro amico Chicco Fusco. Ciao Chicco, come stai innanzitutto? Ciao Massimo, buonasera. Tra parentesi, terza vittoria del Benevento, ne parleremo piano piano. Allora abbiamo detto Under 20. L'Under 20 batte la Francia 20 a 23. Anche quest'anno gli azzurrini tornano alla vittoria nel 6 nazioni. Sicuramente per quanto riguarda i nostri azzurrini il pacchetto è stato dominante ed è proprio grazie al pacchetto che è tornato ad essere il più temuto del torneo che insomma sono riusciti a vincere questa partita. Una Francia che ha un'ottima salita difensiva, una Francia che è velocissima soprattutto con i tre quarti, capace di aprire, insomma la palla esce dal raggruppamento, va all'apertura, va ai tre quarti, una velocità imbarazzante, rapidità, la capacità di trovare gli spazi e di poter offendere, quindi andare a segnare. I azzurrini che sono anche riusciti a tenere molto bene, sono rimasti in 14 quindi con un uomo in meno a causa di un giallo per 10 minuti, sono stati capaci insomma di non farsi segnare, anche questa è un'altra nota positiva. C'è da rivedere ovviamente un po' la touch, ma diciamo che nel complesso è stata un'ottima prestazione, quindi 20 a 23 per quanto riguarda gli azzurrini. L'abbiamo già detto nella scorsa puntata, la settimana scorsa è stata la settimana della Francia, Francia al 6 nazioni, gli azzurri pareggiano a Lille in casa della Francia 13 a 13. Comunque è un risultato storico, per adesso 50 match giocati con la Francia, abbiamo nel nostro palmarès tre vittorie, in effetti sarebbero quattro, ma una viene da un test match, quindi non da un match ufficiale, quindi non fa numero in questo caso, ed è proprio quella del 99, quando battemmo la Francia ci giocavamo l'accesso al 6 nazioni e quindi siamo entrati vincendo al 6 nazioni. Una Francia che ha una mischia dominante, insomma solo con noi, la Francia risulta avere la mischia più pesante di tutte, e soltanto il pilone destro, credo che sia il destro, il 3, pesa più di 140 kg, comunque con noi erano 95 per l'esattezza quasi 100 kg in più. Eppure il rugby ha tenuto per quanto è stato possibile, insomma dimostra che la disciplina, tranne il minimo indispensabile quando sto a difendere, insomma non è che poi sia stata così eclatante, una Francia che parte subito, insomma all'inizio va subito a meta, prima si guadagna un calcio di punizione e poi vai a meta, il primo tempo si stava quasi per chiudere sul 10 a 0 per la Francia, poi abbiamo noi un calcio di punizione, lo mettiamo dentro, quindi si chiude sul 13 a 3. Poi la Francia rimane in 14, prende un cartellino rosso, placcaggio alto, secondo l'arbitro il grado di pericolosità è elevato, da giallo in un primo momento era stato dato, il giallo viene girato in rosso, una Francia che rimane in 14, una Francia però che gli azzurri ci hanno messo mezz'ora, quasi per andare a segnare, una Francia nonostante in 14 quasi non è stata bravissima a difendersi nei punti chiave, insomma e a bloccare l'Italia. Pareggio? Pareggio io dico meritato, Chico, tu che dici? Più che meritato, l'Italia ha fatto un primo tempo che nonostante ha chiuso in svantaggio per il 10 a 3, e ha fatto un primo tempo strepitoso, perché la Francia è entrata in campo per massacrarci, fisicamente e tecnicamente, però non è riuscita a fare il suo gioco grazie a una difesa strepitosa dell'Italia, che ha placcato l'implaccabile, è stata perfetta in chiusura, è stata perfetta nei placcaggi individualmente e collettivamente, quindi non ha permesso alla Francia di poter sviluppare il suo gioco, quello che poi è il suo gioco naturale, quello di portare la palla sempre fuori, a largo, e di giocare con quei tre quarti che sono probabilmente i migliori del mondo, individualmente. Dopodiché siamo stati bravi e fortunati, nel senso che quel placcaggio alto, che probabilmente fino a qualche anno fa era un placcaggio probabilmente normale, ma adesso l'espulsione con i nuovi regolamenti è sacrosalta, quindi è stato un loro errore che gli ha comunque condizionato la partita, perché giocare in quattordici a quei livelli è sempre difficoltoso. L'Italia ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi, io penso che sia stato l'Amaro a fare un numero impressionante di placcaggio, adesso non ricordo le statistiche, ma ha fatto più di 30 placaggi. Sicuramente è stato quello che ha placcato di più, sicuramente. Di più è stato messo addirittura nella formazione del selezione della settimana, insieme ad altre due persone, tre quarti se non sbaglio, Capuzzo. Assieme a Milancello, che è stato il player of the match, e lo scordizio napoletano, Enji Capuzzo. Esattamente, quindi voglio dire niente, io non mi aspettavo una reazione di questo tipo da parte dell'Italia, vero è che la Francia è in un periodo di assestamento, ovviamente quella di partire di Dupont, che per quest'anno ha rinunciato a 6 nazioni, la Francia ha perso tantissimo. Però la Francia è una squadra che non si rifà soltanto ai singoli giocatori, è un collettivo eccezionale, strepitoso, e quindi anche la mancanza, in questo caso di Dupont, dà ovviamente dei connotati alla Francia diversi rispetto a quando gioca lui. Tuttavia, io questi tipi di squadra non soffrono la mancanza di un singolo giocatore, quindi per me bisogna fare i complimenti all'Italia per come ha giocato. La Francia viene da un campionato di assenazioni un poco strano, dove ha vinto con una meta allo scadere, non concessa alla scorsa della settimana prima, ha preso più di 38 punti dall'Irlanda, però insomma questi sono affari francesi che a noi non riguardano. Quello che riguarda noi è che l'Italia è riuscita a pareggiare e avrebbe anche potuto vincere se non fosse stato sfortunato il povero Garbetti, che nel momento in cui stava piazzando ci è caduta la palla da terra, quindi ha dovuto affrettare tutte le situazioni per poter calciare. Ha preso il palo, ancora più sfortunato. Quindi, niente, dobbiamo dire solamente grazie a questi ragazzi della bella partita che hanno fatto e delle sensazioni che ci hanno fatto vivere in televisione o allo Stato. Siamo sulla strada buona, ecco. Prima o poi ci toglieremo qualche soddisfazione, sicuramente con qualche squadra forte cadrà. Prima o poi, stiamo costruendo. Inserendo Favretto nella lista, insomma abbiamo portato un... Avevamo anche noi tre saltatori in touch. Si è visto qualche miglioramento, ma sulla touch c'è ancora molto da lavorare. Sì, c'è molto da lavorare, ma questo campo era una fossa dei leoni domenica, sabato scorso, domenica scorso, esattamente. Per stare in campo con quasi 60 mila spettatori, con una Francia indemoniata, perché comunque loro hanno dato il 100%, non era assolutamente semplice giocare. Era veramente un'arena, un'arena dove i nostri erano gli agnelli sacrificati. Tuttavia ci sono degli errori, ovviamente, però la vittoria va sempre rispettata. In qualsiasi modo avviene la vittoria. Per noi il pareggio è quasi assegnabile alla vittoria, voglio dire. In qualsiasi modo avviene, bisogna sempre onorare questi tipi di vittorie, perché sono quelle che ci fanno acquistare anche più da parte dell'Altre Nazionale, delle altre federazioni, delle altre squadre, con un certo rispetto. Quindi anche la Scoccia ne verrà a Roma la prossima settimana, tra due settimane, verrà ben preparata ed è un'ottima squadra. Forse molto meglio anche della Francia in questo momento. Quindi bisogna stare concentrati e accordi più se è possibile, perché faranno di tutto per poterci venire a vincere a Roma. Questo è poco ma è sicuro. Ho visto una copertura maggiore anche per quanto riguarda il discorso che facevamo nella scorsa puntata, per quanto riguarda il mediano. Ho visto che spesso l'Amaro, comunque insomma le seconde e le terze, cercavano di creare un po' di copertura per quanto possibile far lavorare meglio la mediana. Però ho visto forse ancora un po' di lentezza per quanto riguarda il reparto mediano. Sì, però c'era una pressione grandissima. Era molto difficoltoso giocare 9-10 con quella pressione asfissiante da parte delle terze linee, da parte dei tre quarti avversari. A parte che non è semplice, vai. Però in questi casi è ancora più difficile, perché loro veramente hanno giocato una partita di altissimo livello, parlo dei francesi. Quindi resistere a quel tipo di pressione è veramente molto difficoltoso. Io per me sia Paggerello che Vanni quando sono entrati hanno fatto il loro dovere assolutamente, anzi molto meglio delle altre volte, se mi concedi, perché quel clima che c'era in campo non era un clima semplice da poter gestire. E lì la prima linea e le terze linee e le seconde linee hanno fatto un lavoro eccezionale concedendo il minimo indispensabile per il più poco possibile proprio alla difesa francese. Sono stati veramente per me eccezionali. Qualcuno ha ipotizzato noi nella mezz'ora del secondo tempo in cui poi siamo andati noi a meta, insomma, ci siamo presi anche un calcio di punizione. Però voglio dire, ci sta quando difendi, è chiaro che è facile incappare nell'errore poi con quella squadra. Però qualcuno ha detto forse gli azzurri avrebbero dovuto ingranare un po' più la marcia, insomma provare a segnare prima per avere poi più tempo. Tu che ne pensi? Sì, io ti ripeto, io non ho visto la brutta Francia, io ho visto la grande Italia. Ovviamente la stampa francese ha distrutto la propria squadra perché contro l'Italia non vuole perdere nessuno, non vuole pareggiare nessuno. Perché perdere con l'Italia per loro le senazioni è una mortificazione. Quindi la squadra francese è stata mortificata sotto tutti i punti di vista. Addirittura dicono di non dover più convocare il ragazzo del centro che è stato squalificato con il cartellino rosso, hanno criticato tantissimo Lucu, Mediano di Mischia, hanno fatto delle pagelle che non superano il 4,5. Io sinceramente ho visto un'ottima prestazione della Francia e che l'Italia ha dato il 100%. Quindi io riconoscerei sicuramente i meriti dell'Italia anziché i meriti, in questo caso, i meriti della Francia. Perché molto spesso quando l'Italia riesce a vincere quando le altre squadre sono un attimo di defianza, un attimo in calo, di concentrazione, fisico, tecnico, tattico. Invece per me la Francia ha fatto una partita eccezionale. È l'Italia che ha saputo gestire bene quel tipo di pressione. Ultima domanda, così andiamo avanti con la puntata. Allora, in effetti, l'abbiamo già detto, tra la prossima settimana ci sarà il quarto turno quindi con la Scozia. L'Under 20 giocherà il giorno prima dell'Italia dal Monico di Treviso e la seconda e ultima sfida qui in Italia. Da Treviso per i ragazzi, ve lo ricordo, e gli azzurri giocheranno l'Italia-Scozia nel 9 di Roma il 9 di marzo. Contro la Scozia dobbiamo temere di più il pacchetto, i tre quarti o comunque insomma è una partita o entrambi? Guarda, la Scozia per me è una squadra molto completa. Ha una linea di tre quarti eccezionale. Cominciando dall'estremo Kinghorn che è un fenomeno. L'apertura Russell che è uno dei migliori al mondo. C'ha due centri Tupiloto e l'altro che sono due due colori di ferro. Van der Meten all'Ale che ha segnato tre metri quando l'Inghilterra ma è un gigante. Ci hanno altri due ali dall'altro lato che adesso non ricordo i nomi che sono dei funambuli sono velocissimi a passare. Davanti sono completi. Secondo me la Scozia è una delle migliori squadre di questo 6 nazioni insieme all'Irlanda e quindi penso che sia una partita difficilissima come quella con la Francia se non di più perché la Scozia secondo me tolta l'Irlanda è veramente la seconda squadra migliore del 6 nazioni in questo momento quindi bisogna stare molto concentrati con i piedi per terra e sapere che ci si fa affrontare una squadra che è completa in tutti i reparti. Per chiudere il discorso player of the match l'abbiamo già detto l'hai detto tu Tommaso Menoncello per quanto riguarda gli azzurri è stato player of the match per quanto riguarda l'Under 20 il nostro pilone Gallorini è stato lui il player of the match abbiamo un altro risultato che tu saprai benissimo World Rugby ha rifatto i calcoli di quella che è la classifica del ranking l'Italia grazie al pareggio con la Francia ritorna al decimo posto nella classifica del ranking mondiale l'ultima volta 11 anni fa il miglior risultato di sempre dobbiamo tornare indietro di 11 anni quando la nostra nazionale era gestita dal francese Brunel quindi altra notizia importante ci siamo messi dietro le Fiji il Giappone la Georgia e il Samoa beh vero questo è un passo importante anche se è vero che in questo momento le nazionali dell'altro emisfero dell'emisfero sud non stanno giocando quindi non possono fare risultati e bisogna aspettare qualche mese per avere la giusta classifica quando cominceranno a giocare anche dall'altro lato del mondo però voglio dire al momento siamo nei primi dieci ci sta bene siamo contenti assolutamente è il miglior risultato di sempre per ora il ranking in questo momento ci dice che il Sudafrica è in testa seguito dall'Irlanda la differenza è poco più di un punto al terzo posto in questo momento ci sono gli All Blacks la Nuova Zelanda sei nazioni e anche femminile Guinness Women's Six Nations le azzurre di coach Giovanni Raineri Nanni Raineri si sta preparando anche lui al sei nazioni che partirà per le azzurre il 24 di marzo la prossima settimana esattamente dal 7 al 10 Nanni Raineri è già ufficializzato quella che è la lista quindi ha convocato le atlete al raduno di Parma ma proprio in comincia comincia termina quella che è la preparazione per il suo sei nazioni vi ricordo che anche le azzurre debutteranno il primo match il debutto con l'Inghilterra così come per l'Under 20 ed è stato per gli azzurri comincia nel 24 di marzo il secondo match e ultimo match in Italia per quest'anno degli azzurri sarà sempre contro la Scozia le azzurre giocano all'Anfranchi di Parma il 20 di aprile e chiuderanno le loro sei nazioni le azzurre il 27 di aprile a Cardiff contro il Galles restando sempre in tema di sei nazioni vi ricordo il Six Nations Festival Under 18 sia maschile che femminile la maschile la settimana scorsa proprio in preparazione al Festival ha avuto un match con la Francia purtroppo gli azzurrini sono stati battuti qui allo Zaffanella di Via Dana quindi in Italia 7 a 36 anche in quel caso una mischia dominante tanta tanta velocità da parte dei dei francesi si sono impostati il match praticamente come hanno voluto i ragazzi sono arrivati a segno praticamente all'ottantesimo allo scadere ma comunque abbiamo portato sette punti a casa per quanto riguarda il Six Nations Festival i maschi lo giocherà la maschile lo giocherà qui a Parma dal 30 marzo al 7 di aprile mentre la femminile lo giocherà in Galles dal 29 di marzo al 6 di aprile ultima notizia per quanto riguarda il 6 nazioni già dalla scorsa settimana per quanto riguarda il 6 nazioni femminile la federazione ha reso noto che è già possibile prenotare online i biglietti per vedere i due match interni delle nostre azzurre quindi vi ricordo con l'Inghilterra il 24 di marzo e con la Scozia il 20 di aprile ovviamente c'era la nazionale quindi nelle nostre franchigie Zebre Parma e Benetton Rugby hanno osservato la pausa non hanno giocato vi ricordo che la Benetton nello United Rugby Championship è nelle prime posizioni in classifica quindi deve difendere questa posizione e entrambe le Zebre Rugby e la Benetton Rugby sono agli ottavi della Challenge Cup i match della Challenge Cup ripartiranno il primo weekend di aprile Benetton e Zebre vi ricordo è possibile seguirli sulla piattaforma Sky quindi sui canali Sky Sport non è andata in scena nemmeno la serie A Elite Maschile quindi il massimo campionato nazionale maschile che riprenderà questa settimana come sempre con gli anticipi del sabato e i posticipi della domenica ha giocato però la femminile quindi domenica è andato in scena il massimo campionato nazionale italiano femminile la serie A Elite esattamente la seconda fa il quarto turno della seconda fase che già ha dato dei risultati il Val Sugana è la prima finalista mentre Cus Torino e Capitolina si sono salvate Val Sugana Cus Milano è finita 33 a 0 Colorno Villorba 10 a 21 Treviso Capitolina 12 a 14 Cus Torino batte il Calvisano 38 a 15 per quanto riguarda la classifica nel girone playoff Val Sugana in testa con 20 punti seguito dal Villorba a 13 Cus Milano a 5 punti chiude la classifica playoff del girone playoff il Colorno con un punto per quanto riguarda il girone playoff abbiamo in testa la Capitolina a 17 punti seguita dal Cus Torino una classifica molto corta il Cus Torino a 16 punti Treviso a 6 chiude la classifica del girone playoff il Calvisano a 0 punti il Val Sugana anche un altro record praticamente ha vinto tutti i match che ha giocato fino ad ora più di 30 punti conquistati dal Val Sugana veniamo alla nostra regione domenica scorsa si è giocato in regione per quanto riguarda la serie maschile il Villa Panfili in casa batte il nostro Napoli a Fragola 43 a 31 belle notizie per quanto riguarda la serie a femminile il nostro Neapolis rugby femminile batte i lupi frascati a casa loro 22 a 12 per il Neapolis 6 uscite 6 vittorie 6 vittorie consecutive come sempre avremo il contributo tecnico quindi il video commento tecnico della nostra amica Laura Petrosino la terza linea del Neapolis rugby femminile ciao Max parto col dire che questa partita risultava essere molto importante per noi al di là della della mera vittoria della mera classifica questa questa vittoria era importante dal punto di vista mentale o innanzitutto per dimostrare noi stessi che il lavoro che stiamo facendo sta andando avanti e ci sta portando sempre più vicine al biglietto per le semifinali a maggio e poi uno scontro importante per dimostrare anche agli altri che siamo effettivamente forti così come si dice quindi che davvero il Neapolis quest'anno vuole lasciare il segno siamo contenti indubbiamente della vittoria perché è arrivata con un primo tempo che abbiamo gestito benissimo dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale senza cedere diciamo a determinate provocazioni che sono arrivate dalle avversarie indubbiamente partita molto tesa dal punto di vista psicologico per entrambe le squadre perché comunque ci giocavamo tanto e non è stato facile in alcuni momenti mantenere lo stato zen per così dire però il gioco parla sempre per sé tant'è che siamo riusciti ad essere dominanti sia nei punti diciamo nelle fasi stadie che è in mischia e tush infatti sono arrivate due metri sia dalla mischia che dalla tush anche poi nella fase aperta con una linea tre quarti che probabilmente non ha mai giocato così bene come durante questa partita trovando tanto spazio all'argo tanti buchi con un attacco penetrante cosa che magari è venuta un po' meno nel secondo tempo dove la concentrazione diciamo è calata tant'è che le frascatane sono riuscite a poi accorciare il divario che c'era con il punteggio sul tabellone però fortunatamente è andato tutto per il meglio abbiamo espresso un buon gioco dobbiamo sempre continuare a lavorare sulla tenuta fisica e mentale certo non è facile cambiando sempre tipologia di campo sul quale si gioca però la preparazione atletica che stiamo facendo sicuramente ci aiuta ad adattarci meglio a tutte le superfici che andiamo a incontrare e poi la tecnica e la tattica sta uscendo fuori a parte qualche errore individuale abbiamo fatto un buon gioco collettivo e questo ci rende sempre più fiere ora testa la prossima partita domenica di questa settimana speriamo di continuare sempre a fare i metri di allungare il divario con le altre squadre e di andarci a prendere questo obiettivo per la semifinale grazie veniamo alla serie B due match Roma batte la Reghi Salerno 42 a 3 il Benevento in casa batte il Perugia 29 a 14 ci parli un po' del match Chico? Massimo è stato un match un po' strano nel senso ovviamente uno scontro diretto perché noi arriviamo a 11 punti il Perugia a 12 punto sopra di 9 quindi è uno scontro diretto per la salvezza perché l'ultima retrocede è una partita molto nervosa ovviamente da entrambi i lati perché nessuno voleva perderla però diciamo che noi siamo riusciti a fare addirittura 5 punti con le 4 mete e a non dare il punto di bonus a loro quindi abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere da questa partita e attualmente in questo momento siamo salvi perché l'ultima retrocede la penultima si salva è una scommessa che noi abbiamo cominciato ad agosto dove abbiamo cominciato la squadra con 7% quindi per noi la salvezza vuol dire veramente come andare in Serie A come vincere il campionato siamo sulla buona strada perché ormai mancano 8-9 partite non dobbiamo arrenderci non dobbiamo assolutamente essere contenti solo di questo risultato perché siamo lì tutti e due comunque fino alla fine ce la giocheremo dobbiamo vincere ancora qualche partita i ragazzi si alleano non ci credono abbiamo creato un bellissimo gruppo da 7 che eravamo adesso siamo in 20 21-22 quindi diciamo che diciamo che siamo per una sulla strada buona dobbiamo solo crederci fino alla fine Ricordiamo nella terza vittoria quest'anno quindi ce ne saranno sicuramente altre passiamo alla Serie C interregionale promozione quarto circolo Wilders è finita 57-3 Tigri-Bari Polisportiva Partenope 24-3 la Serie C Idra il nostro Napoli a Fragola batte l'Idra 45-17 Rugby Clan Santa Maria Capoavetere Ammers Campobasso è finita 24-22 in campo anche l'Under-16 il quarto circolo Benevento Salerno non si è disputata Black Knights Santeramo è finita con un pareggio 19-19 il Bari batte la Rechi Salerno 79-0 altri due match per quanto riguarda la categoria Under-16 interregionale il Napoli a Fragola in casa batte il Villa Panfili 37-15 Capitolina Benevento finisce 19-55 vi ringrazio come sempre per l'attenzione siete sempre in tanti e spero che aumenterete sempre di più grazie Chicco ti rinnovo l'appuntamento per il dopo Italia-Scozia e speriamo di poter dare altre belle notizie come il pareggio con la Francia grazie ancora a tutti testa bassa palla ben stretta l'obiettivo e la meta canali social di Per Sempre News saluti o vali a tutti Buonasera a tutti ciao Massimo Grazie a tutti